Allora, buonasera, siamo qui all'Ombra del Colosseo e sono qui con Andrea e Simone. Le riconoscete? Hanno fatto tante cose belle e sono state anche a Colorado. Sì, da 2010. Io vorrei domandare per la rubrica a larghe e giovani qual è la strada giusta per un ragazzo che vuole intraprendere la vostra carriera, cosa deve fare? Iniziamo prima da Andrea. Innanzitutto si deve armare di tanta 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 pazienza e voglia di fare, tanta volontà ci vuole. E poi non deve fare altro che inseguire i suoi sogni. Tu com'hai iniziato? Io ho iniziato a fare l'animatore turistico, che bene o male iniziano tutti così dai villaggi, che è una palestra fantastica per chi vuole fare questo mestiere. Insomma, ti metti in gioco a te stesso, sei davanti la gente già da abbastanza giovane, insomma, e quindi ti fai le ossa e dopodiché decidi se intraprendere o meno questa carriera a livello professionistico. Insomma, l'ho deciso di fare ed è successo così. Quindi villaggio, teatro e poi... Quindi hai fatto teatro poi? Esatto. Hai seguito qualche corso, consigli qualche scuola in particolare, senza fare pubblicità ovviamente? No, in particolare no, però comunque la scuola serve perché comunque ti dà istruzione, ti fa capire poi se è veramente quello che vuoi o no. Quindi una scuola va fatta, un'accademia di recitazione va fatta, secondo me poi, non lo so. Perfetto, adesso passiamo... vai. Si è dimenticato già il mio nome, Simone. No, Simone, Simone. Simone Di Andrè e Simone. No, ha già detto tutto lui perché anche io ho la stessa formazione, vengo da là. Avete lavorato insieme oppure... No, abbiamo fatto i villaggi, perché io sono toscano di Cecina, lui invece è abruzzese. Esatto. Abbiamo lavorato in animazione come contattisti, capo animazione, facevamo già sul palco gli spettacoli e poi ci siamo trovati a Roma nel 2002, giusto? Tre. 2003? Dieci anni fa, ragazzi. Sbagliamo sempre. Dunque 2003, sì, abbiamo fatto la stessa accademia di recitazione perché noi siamo animatori, poi attori e poi tornati, diciamo animatori nel senso cabarettisti, quindi tornati a far ridere. Perché ci piace e a tanti piacciamo, non a tutti come... Non si può piacere a tutti questo... Vabbè, non si può piacere a tutti questa qua... Però è molto bello, insomma. Non c'è... Ti mi chiedi di dire una strada, io non la so la strada che uno... Noi abbiamo fatto così, la strada sua è la mia, uguale, identica, non c'è... Perché abbiamo iniziato insieme. Magari qualcuno... Qualche consiglio in particolare, oltre a continuare a crederci? Ma inventarsi cose nuove, cercare sempre un modo nuovo di far ridere, che magari... Sì, funzionano tanti monologhisti, funzionano i duo, funzionano le cose visive, però ci può essere sempre una cosa nuova da poter portare, in questo caso in tv, per farsi conoscere, ma anche live, perché anche se non stanno in tv, ce ne sono tanti che sono veramente bravi. Veramente, veramente bravi, che hanno anni e anni di gavetta e ore di repertorio di spettacoli e battute. Quindi benvenga qualsiasi forma di comicità, insomma, e ognuno poi trova la sua. Perfetto, questo per oggi è tutto da MunicipioV.it e alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!